Nessuna conseguenza fortunatamente per le persone, ma un po' di apprezzione ieri nel tardo pomeriggio a Colle Sassa, frazione alta del comune dell'Aquila, dove a pochi passi dalle case nella strada che conduce a Poggio Santa Maria, una porzione seppur piccola di strada ha franata a causa delle piogge incessanti che hanno interessato la zona dell'Aquilano nella giornata di ieri, dove il maltempo ha fatto danni, per fortuna non gravi. La strada per precauzione è stata chiusa al traffico veicolare e pedonale dalla provincia, con un'ordinanza emessa ieri sera, ad intervenire per primi vigili del fuoco, che hanno effettuato anche altri interventi nella stessa zona, assieme alla Polizia Municipale e ovviamente alla provincia. E questa è la situazione che si prospetta poi alla luce del giorno. La strada provinciale è stata chiusa ovviamente per ragioni di sicurezza, con qualche disguido ovviamente per l'utenza, perché chi arriva da Poggio Santa Maria non può più transitare per Colle Sassa, ma è costretto ad arrivare sotto a Sassa attraverso la strada di Colle Mare. In pratica la frana è avvenuta quasi al bordo della carreggiata della strada provinciale Silva Plana, interdetta la circolazione. Ora sono franati un paio di metri di lunghezza della strada per 4-5 metri di altezza su una corsia, niente di particolarmente pericoloso a quanto pare, secondo le prime ricostruzioni, ma comunque si è adottata ogni precauzione utile per l'incolumità delle persone. Per i cittadini che abitano nei paraggi, il passaggio obbligatorio è a Colle Mare per scendere sotto a Sassa Paese. Si tratta comunque di un fatto annunciato, perché fanno presente che sono anni che vedevano sprofondare pian piano quella strada. La giornata di maltempo però ha provocato situazioni di disagio anche nel centro abitato della frazione di Sassa, con il centro del paese non solo completamente allagato. Ad ogni pioggia più consistente si verifica la stessa situazione anche all'Aquila città e si ripropone il tema della pulizia dei tombini, che secondo i cittadini non avviene spesso.